Durante la sua visita pastorale a Toronto nell'agosto del 2011, in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima Assunta, Monsignor Antonio Stagliano, Vescovo di Noto, desideroso di conoscere la realtà imprenditoriale e sociale dei diocesiani e siciliani a Toronto, ha visitato i supermercati Island Farms, vanto e orgoglio dei fratelli Coppa. Più di 40 anni fa, Charles e Louis Coppa, due fratelli oriundi pachinesi giunti in Canada con la nave negli anni 50, all'inizio degli anni 60 aprono un negozio di frutta e verdura nella centrale Queen Street di Toronto. I due fratelli, grandi lavoratori e pieni di entusiasmo, qualche anno dopo fanno il grande passo di aprire un supermercato che chiamano Island Farms. La filosofia è di offrire al pubblico il meglio degli alimentari e della frutta e verdura. Inizia così la vertiginosa ascesa dei fratelli Coppa, che oggi vantano ben 5 ipermercati nella grande Toronto con 800 dipendenti. L'ultimo della serie, quello di Mississauga, è il più grande supermercato del Nord America, Canada e Stati Uniti, per estensione e numero di prodotti. Oggi i due fratelli Coppa, nella gestione dei supermercati, sono affiancati dai figli. Nonostante siano diventati giganti del settore alimentare a Toronto, Charles e Louis Coppa sono rimasti umili e pronti a dare una mano a qualsiasi iniziativa caritatevole e culturale, senza mai dimenticare la Pachino, da dove la famiglia è emigrata alla ricerca di un futuro migliore. Charles Coppa è stato insignito del titolo di commendatore della Repubblica Italiana per le sue opere meritevoli e per aver contribuito con mezzo milione di dollari insieme ad altre 20 famiglie italiane alla prestigiosa creazione della Galleria Italia alla Art Gallery Ovonterio. Monsignor Sagliano ha gioito della visita e dell'incontro con i fratelli Coppa di Aylan Farms. Egli, come ha promesso ed ha scritto nella lettera pastorale, era venuto tra noi da pastore a visitare gli italiani della diaspora, gli immigrati che sono venuti in queste terre canadesi per fare storia e seminare tradizione e per constatare di persona come la devozione alla Madonna assunta gelosamente e fedelmente osservata da questi nostri italiani, può dare una parola di speranza alla sua diocesi di noto. Enzo Di Mauro, italnews.ca